... Cordiale buon pomeriggio da Emilio Migliaccio, prova di qualifica riservata ai tre anni con cinque concorrenti al Via. Numero uno è un foto SM, una femmina da Classic Photo con Peppe Rucco. Il due è Dej Grif, maschio da Varenne e South Wing Wall con Mario Minopoli Junior. Il quattro è Trezor Roa, maschio da Olgersul e Sdragetto, interpretato da Luigi Panico. Il cinque Torcello Luis, maschio da CCS Ciacchitti e Lampedusa Luis con Pino Capasso. Ed il sei Tamanduaggetta. Duecento in quindici e tre, Tamanduaggetta assume l'iniziativa e una figlia di Pancip e Lucilla Getta. Pietro Carazza ne è l'allenatore, Gaetano Di Nardo in Salchi. Percorre il quarto iniziale in 31 e mezzo. Seconda posizione Torcello Luis, il CCS Ciacchitti di Pino Capasso. A precedere Timon Photo SM, la Saura di Peppe Rucco che nasce da Classic Photo e Imon Antic BSM 47.3 di 600. In quarta posizione The Higgrief, il Varenne South Wingwall di Mario Minopoli. Chiude Trezor Loa, 1.4 e 3 gli 800. Si è andati abbastanza piano in questa prima parte di gara. Adesso ha mosso a largo Timon Photo, chilometro in 1.20. Timon Photo raggiunge Torcello in seconda posizione. Lo sta scavalcando e cerca l'aggancio alla leader Tamanduaget che però accelera. Si rimette sulle gambe anche Torcello Luis che non ha gradito lo stop and go. 1.35 e mezzo i tre quarti di miglio. 15 e mezzo l'ultima frazione, si unisce alla lotta anche The Higgrief che prova a centropista. battute conclusive guidata in punta di Fioretto. Tamanduaget è avvicinata da Torcello Luis. poi lungo la corda Trezor Loa, Tamanduaget, Torcello Luis, Trezor Loa, poi The Higgrief. e... grazie a tutti.